Bene ragazzi, qui Dido stragasato per poter finalmente cominciare i GTA 4 Quindi, non ci sono bisogno di presentazioni, non ci sono bisogno di strane intro Quindi, facciamo subito inizia Non so perché sia muto il volume, vabbè Non sei connesso, connettersi, bla 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 bla, no La musica è estremamente troppo epica Troppo epica si può dire, me ne sbatto, sinceramente Allora, quello era Roman, boh, vabbè Sto giocando a tipo la grafica 240p, quindi non si riconoscono neanche i volti Eccolo qua Nico Non mi chiedete di giocare a una grafica più alta perché il mio pc non la regge, quindi Avvio di una nuova partita in corso Il cugino, i cugini Bellic Adesso è questo gioco Lascio godere i video ragazzi Uno dei più bei giochi che ho mai giocato su Play 3 Finalmente posso farlo sul canale Liberty City Liberty City Yeah You ever been? Oh, crazy place Nico Bambam 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 C'è l'ho già giocato ma non me lo ricordo ragazzi state tranquilli quindi Mi ricordo solo che è un gioco fortunatamente epico Non riesco mai a commentare perché questa collina sonora mi piace davvero tanto Quindi me la godo un po' anch'io Non c'è mai fatto cazzo che l'accento russa è così forte Profondo amico Profondo Grande gioia e enorme Guarda che tu Stuart Pickery Eccolo music producer Craig Conner Grande Craig Un applauso a Craig Di più Di più E si è arrivati Ehi non lo cagano Si in effetti non ci dovrebbe che può essere Roman Aprenderci Ah ok ok Allora qualcosina piccolo 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 mi ricordo però veramente ragazzi poco tranquilli Grazie 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 bella giustizia credo che se siamo degli uomini contro cazzo dove c'è anima la vita rara la proposta per il viaggio ma dai il sport c'è nel meccanico bella che cazzo di lingua è quella della canzone non c'ho fatto ne a caso la lingua assolutamente il ritmo andiamo fino a casa di roman raga ok questo no ok quello non è un tasto che devo schiacciare premier t vabbè è quello che sto facendo io sono stupido anche che vado a vedere usa l per sterzare fin lì c'ero arrivato cos'è il freno a mano? è il freno a mano ok lo so che la via colorata è quella che devo seguire la sto anche mancando nella maniera più totale ok si come il freno non questo ah con la x che poi qua è la ok con la non con la x perchè mi sono abituato al controllo della play ok con la freno a mano eeeh vatti dalle spalle sono con mio cugino con le quattro grosse tette da poppare ok si si inizia ahahah buona ahahah che stile ahahah ahahah ok 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 ma mi ok 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 come rile come rile come rile come rile come rile quel poco che è tuo è anche mio roman guarda è un genio però è un genio è un potuto coglione ma è un genio più o meno anche per me più o meno anche no che schifo lo scarappaggio ma che cazzo la città la città la città la città la scuola barbara io voglio quella che succhia come un'aspirapolvera quella che sta a prenderlo la mamma scriveva che succhia come un'aspirapolvera la città la città la città la città non è che è un particolare così secondario ok opportunity e l'unico è l'affetto 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 che con te non è che sto bazzicando non mi ha detto niente cosa vuoi dire no? non ho mai detto niente non ho mai detto niente mistero 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 cosa è successo? il capitolo si è morto? no no non è nulla belle posteri due cose ma scordatevi quello che ho detto la guerra è dove i ragazzi la guerra è dove i ragazzi e stupiti i ragazzi eri ragazzi eri ragazzi eri ragazzi come dansa rom 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 eri geniale rom 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 vabbè 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 romani che c'è la cosina gialla ci sono molte tette lui ha questo quadro fisso ho fatto qualcosa oh 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 per me per il mio canto questo è un capo ma al pensiero è una cosa terribile nico siamo solo io e te come la vedi l'icona della casetta è lampeggiata in mostra posizione di questo appartamento qui potrò salvare la partita va bene altrimenti entri sulletto potresti fare la partita e fa scorrere sei ore va bene dai dimmi altro voglio sapere oh l'icona r lampeggiata in mostra dove poter incontrare roman ok poi poi luogo dove incontrare quelle dei poster dai eh non lo sai quello eh ok basta è finito si tentativo di salvataggio automatico al momento non sei connesso ma perchè devo per forza essere connesso questo porca puttana no 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 che palle non ho la ca... vabbè devo stoppare qua il video perchè non voglio che mi si tolga il salvataggio automatico e mi devo ancora creare un account e... oddio sta musica c'è una musica c'è una musica vabbè comunque devo stoppare qua il video perchè mi devo andare a creare un account per poter salvare la più grande minchiata del secolo e... quindi purtroppo devo chiudere qua il video comunque vi chiedo come al solito per ogni serie nuova 500 mi piace per sapere se volete che la mandi avanti almeno appunto saprò se apprezzata saprò se non vi piace molto e almeno deciderò da farsi grazie mille ragazzi per... ecco per seguire come al solito e quindi chiudiamo ogni video come faccio al solito con la richiesta di un mi piace e commento mettete il falso proprio in iscrizione su bene ragazzi ciao